Buonasera, benvenuti al TG regionale per sordi. Un detenuto di 29 anni è morto la notte scorsa nella sua cella del carcere di Sollicciano a Firenze dopo aver inalato gas del fornelletto in dotazione, allo scopo, secondo quanto emerso, di provare ebbrezza. L'episodio è avvenuto nel reparto dove si trovano i detenuti tossicodipendenti. Il PM di turno ha disposto l'autopsia. A dare l'allarme agli agenti di custodia è stato il compagno di cella che a sua volta aveva inalato gas a fini sempre di sballo ma senza accusare malori. Il 29enne era originario di Empoli. Un giovane originario della provincia di Pisa è stato trovato morto in strada a Londra l'11 maggio scorso. La notizia è stata riportata oggi da Nazione e Tirreno. Il giovane deceduto è un 23enne. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite anche se sul corpo del giovane, riporta la stampa, non sarebbero stati trovati segni di percosse o altre ferite evidenti riconducibili a un'aggressione. Sull'episodio indaga la polizia londinese che non esclude una morte in conseguenza di un malore. Un uomo di 21 anni è stato denunciato dalla polizia municipale per essersi allontanato alla guida della propria autovettura dopo aver investito un pedone in via Ferrucci a Prato. L'incidente ha visto coinvolta un'utilitaria ed un 28enne che, portato al pronto soccorso, ha riportato lesioni per contusioni multiple con prognosi giudicate guaribili in sei giorni. Dopo l'investimento, il 21enne si era allontanato rapidamente passando con il semaforo rosso. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni mobili e immobili per un valore di circa 220 mila euro all'amministratore di una società di campi Bisenzio, operante nel settore dei metalli preziosi. Il sequestro è stato effettuato per equivalente delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che sarebbero state evase dalla società tra il 2014 e il 2015. Assolto a Firenze per vizio totale di mente Dario Capecchi. 44 anni, l'uomo che la notte tra il 29 e il 30 giugno 2018 uccise a coltellate il padre Osvaldo, 68 anni, e la convivente Patrizia Manetti, 69 anni, sorprendendoli nel sonno nella loro casa di Impruneta. Il giudice ha però stabilito che l'uomo, date le sue condizioni psichiatriche, debba rimanere ristretto in una struttura apposita per un tempo minimo di 10 anni, anche perché socialmente pericoloso. Era alla guida del tir da 12 ore e stava trasportando 250 quintali di blocchi di marmo senza averli fissati bene sul pianale. Per questo un 29enne di origini romene è stato sanzionato dalla Polstrada di Livorno con oltre 2.000 euro di multa, il ritiro della patente, 15 punti in meno e il fermo del mezzo. È accaduto sull'Aurelia in prossimità dell'Interporto. Sarebbero ritenuti responsabili di certe furti aggravati ai danni di alcune attività di Viareggio avvenute tra il gennaio e il marzo 2019. Per questo un 43enne di Viareggio, un 30enne di Pietrasanta, un 45enne della provincia di Firenze e un 27enne romeno, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Viareggio con l'accusa di furto aggravato in concorso. Secondo i militari, una volta individuato l'obiettivo, dopo aver forzato la porta a una finestra, entravano e rubavano soldi dai distributori automatici, computer e soldi. Si aggiravano tra Via Torre degli Agli e Via della Verna, in zona Novoli, a Firenze, con un etto di hashish nelle tasche, mentre a casa nascondevano altri 200 grammi dello stupefacente. Per questo sono stati arrestati dalla polizia un 27enne marocchino e la sua compagna, una 43enne italiana. Un esoscheletro robotico in grado di migliorare l'efficienza motoria degli anziani, di diminuire la fatica e mantenere in allenamento una larga fascia di popolazione. Lo studio è coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa con la Fondazione Don Gnocchi. L'esoscheletro di bacino, finora utilizzato per la riabilitazione di pazienti con problemi neurologici o con amputazione di arti inferiori, infatti può aiutare le persone anziane a mantenersi allenate. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Poco nuvoloso a mattino, molto nuvoloso coperto dal pomeriggio, con possibilità di isolate piogge. In serata precipitazioni sparse a partire dal litorale meridionale in graduale estensione al resto della regione. Venti moderati, mari poco mossi, mossi in serata a largo. Temperature in aumento le massime, con valori prossimi alle medie del periodo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.